L'amore Emiliano Mondonico torna ad allenare, sarà il nuovo allenatore del Novara al posto di Tessere. Poi stasera va bello, ricordiamo la Serie A riparte con la sfida Parma-Juventus. I servizi sono di Cherubini e di Vanali. Spesso e volentieri non ci facciamo caso, ma nella nostra vita i numeri hanno un significato molto particolare e importante. Da oggi per Emiliano Mondonico il numero 7 varrà molto. Sette mesi fa lasciò l'Albino Leffe per riprendere a curarsi e combattere un male antipatico. E proprio oggi, dopo ben sette anni, torna ad allenare una squadra in Serie A, il Novara. Se si vuole scomodare la cabala, il numero 7, quello che tra l'altro piaceva molto al Mondonico calciatore, è quello che rappresenta la creazione, il numero più magico. Ed Emiliano, da rivolta ad Adda, di magico ha la capacità di trasmettere ai suoi giocatori grinta e determinazione. Certo, l'impresa non è delle più facili, visto che il Novara è ultimo in classifica, ha soli 12 punti, ma siamo certi che è proprio questa la sfida che ha spinto Mondonico ad accettare. Tecnico esperto ed affidabile, non ha però a disposizione molti giorni per studiare e far comprendere il suo credo calcistico alla squadra. Si comincia infatti giovedì sera con la gara casalinga contro il Chievo, e poi domenica, sempre a Novara, contro il Cagliari. Due gare importanti per la rincorsa alla salvezza. Quella squadra che fino ad oggi ha tentato in tutti i modi di conquistare Attilio Tessere, il tecnico che aveva regalato a Novara ben due promozioni consecutive dalla Lega Pro alla massima serie, ritrovata dai piemontesi dopo ben 55 anni. Tessere ci ha provato, ora tocca Mondonico, che di sfide vinte se ne intende. Grazie a tutti.